Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24 Un'oasi sportiva immersa nella città Le previsioni del tempo per la provincia di Messina Oggi, giovedì 20 marzo, cielo sereno, polvo nuvoloso Nubi in aumento nel corso della serata Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 21 gradi I venti soffieranno deboli da sud-sud-est su entrambi i versanti I mari, poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio Domani, venerdì 21 marzo, cielo poco parzialmente nuvoloso Per l'intero arco della giornata Le temperature saranno comprese tra i 15 e i 19 gradi I venti soffieranno da deboli a moderati da sud-sud-est su entrambi i versanti I mari, poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.